Ma noi continueremo, ripeto, a lavorare su quel testo anche nei prossimi giorni per cercare la più ampia condivisione, però il Partito Democratico è stato chiaro fin dall'inizio, quello è il testo che appoggiamo e che vorremmo venisse votato da una larga maggioranza anche in Parlamento. Quindi non straccerete la stracciata? No, sicuramente in questo momento non è assolutamente nelle corde del Partito Democratico.